Lo stallo in casa Teramo prosegue perché ieri doveva essere il giorno dell'addio ufficiale di Giorgio Repetto, un addio che però non c'è stato, almeno per il momento. L'incontro che doveva tenersi in sede ha visto però presenti solamente il direttore sportivo e il direttore generale Emilio Capaldi, ma non il presidente Luciano Campitelli, assorbito da altri impegni e che non ha potuto far parte della riunione. Ma l'assenza del padron bianco-rosso di fatto ha portato inevitabilmente ad un rinvio della decisione che tuttavia sembra già essere stata presa. Il problema è che questo tergiversale non fa altro che far perdere tempo nelle trattative di mercato, ancora bloccate per buona parte o per nulla imbastite in altre circostanze. Ancora in stand-by la questione che riguarda Camarà dell'Avellino, per la prima punta si attendono schiarite quando Sandro Federico sarà ufficialmente in sella. Intanto la gara con Ravenna si avvicina e il diavolo continua ad avere la necessità di un attaccante perché per ora solamente Barbuti può ricoprire il ruolo di Boa nel 4-3-3. Balladini non avrà ancora Ventola, Out certamente nella trasferta Ravennate dovrà spostare dunque Sales sul fronte destro di difesa con Pietrantonio che si occuperà della corsia opposta. A centrocampo così come era stato la settimana scorsa per Asta sarà un ballottaggio a 3x2 maglie perché Amadio non si tocca nel ruolo di playmaker davanti alla difesa e poi ci sono De Grazie, Ilaria e Valas che si giocano il posto da titolare. A meno che l'ex maceratese non sia nei pensieri di Balladini una pedina da poter giocare anche nel treno offensivo, considerando che per un bacio terracino in formissima c'è un Tulli che deve ancora trovare il feeling con la porta avversaria. Gara delicatissima quella del Bruno Benelli con un punto a separare le due formazioni, entrambe ad un passo dal bar a tordello e play-out. Il Teramo spera nella scossa del cambio tecnico per trovare la prima vittoria lontano da casa e mettere alle spalle una parte della rivoluzione. L'altra metà, quella che riguarda il direttore sportivo, è una storia ancora tutta da definire.